Della guerra in Ucraina se ne è parlato molto, ma a dare una prospettiva diversa di un conflitto molto mediatico è il giornalista Luca Steinman, con il suo fango, sangue e neve, la guerra raccontata dal fronte russo. Sono trovato nel Donbass, quindi nei territori controllati dai russi e dai filorussi, prima dell'inizio della guerra, il 18 febbraio del 2022. Il giorno dopo la Russia ha chiuso i confini di quella regione impedendo quindi ad altri osservatori e ad altri giornalisti di accedere al Donbass e quindi di essere testimoni dell'attacco dell'invasione che stava per lanciare. Il giornalista inviato di La Sette e di altre testate italiane e internazionali, nonostante le difficoltà e le limitazioni imposse dai russi, ha voluto documentare l'altra faccia del conflitto. Lavorare sul lato russo non è sempre facile, non è stato sempre facile perché innanzitutto ci sono pochissimi giornalisti e poi perché i russi diffidano molto della stampa, figuriamoci di quello occidentale e figuriamoci quindi di me che scrivo e che lavoro per giornali, per media, di paesi schierati contro la Russia in questa guerra. Per diversi mesi ha seguito le truppe russe e filorusse nella loro avanzata, prima trincea dopo trincea intorno ad Onesk, poi dentro la città di Mariupol, in prima linea a documentare gli scontri armati dentro l'acciaieria a Zostal. Penso alla fine di essere stato veramente all'interno di questa centrale un momento molto delicato che ha fatto vivere non soltanto me ma tutto il mondo un grandissimo rischio di catastrofe nucleare. Tanti momenti difficili professionalmente e umanamente raccontati con lucidità e coraggio. I momenti più difficili sono sicuramente stati quando sono stato espulso dai territori filorussi del Donbass, dove però sono sempre riuscito a tornare. Questo dal punto di vista personale. È stato poi anche forte rendersi conto di come vive la popolazione locale, la popolazione del Donbass. Questa situazione che va avanti per loro non da un anno come il resto dell'Ucraina, ma da nove anni. Quindi una popolazione veramente stanca, veramente esasperata, si respira proprio una grande stanchezza nelle famiglie, negli anziani, ma anche nei giovani. Eppure in molti di loro c'è un'ostinazione a non volersene andare. Luca Steinman racconta le storie reali di uomini, donne, bambini, soldati, volontari, rifugiati, insieme alle pressioni subite durante i controlli, descrivendo con precisione il volto feroce di una guerra tragica e fratricida, che è tutto tranne che conclusa.